Il 2021 è stato un anno incredibile per te, hai vinto otto corse, la maglia di campione italiano, campione europeo, tour del Benelux, però diciamo hai chiuso in bellezza la stagione con la Paris di Giroga. Sì, è stato un anno davvero importante per me perché è stata, non ricordo la rivelazione, ma tutta una serie di sacrifici che ho fatto prima, negli anni prima, e ho vinto bene otto gare, come hai detto te, campione italiano, europeo, piazzamente al Tour de France purtroppo non sono riuscito a ottenere nessun successo di tappa, ma poi diciamo la ciliegina è stata la Paris Giroga, quella è una grande emozione. Sì, una forza così epica, stai rendendo conto di cosa hai fatto? No, diciamo solo dal telefono che continua a suonare, tutti magari vengono anche a casa e mi suonano il campanello, magari lì adesso inizio a realizzare quello che ho fatto. Certo, penso che sia stata un'impresa tosta. Sì, perché già in sé la Paris Giroga è una delle corse la più dura quasi nell'ambito del nostro calendario, però corsa così con pioggia, freddo e fanga sembrava di essere tornati negli anni 80 e 90, no? E così è stata davvero una Paris Giroga epica. Ma dimmi un po', era la tua prima Paris Giroga, quando hai visto le condizioni meteo, che hai aperto la finestra e hai guardato fuori? Cosa hai pensato? Sì, come ho detto, è la mia prima Paris Giroga, il meteo non era dei migliori, però diciamo che io con questo meteo vado, mi piace, rendo di più di quello che potrei, che potrebbe fare un altro corridore, perché sai quando uno apre la finestra e vede che piove, fa freddo, si abbattano. Io invece do il meglio di me, perché mi piace appunto queste condizioni, però nella mia testa ho detto, vabbè, già è dura in sé, chissà oggi con queste... ho guardato il giorno prima la gara delle donne, vedevo che non pioveva, ma il pavè era bagnato col pango e cadevano così, senza fare nulla. Ho detto, chissà oggi quante volte cadrò, o magari nelle forature, problemi meccanici, perché è normale una rubè, e così mi sono parlato con i miei compagni e ho detto, ragazzi, oggi l'unica cosa è sopravvivere, però dai, sono partito così, senza pensieri e dopo è andata come tutti hanno visto. Eh sì, sicuramente è un mix di cose, insomma, è abilità nella guida della bici, fortuna sicuramente, ci vuole tanta fortuna perché... Anche quello, come te, è l'abilità di prendere sempre la giusta traiettoria. Io infatti seguivo un uomo come Van der Poel perché lui su questi percorsi, o Van Aert anche, vanno a nozze, vengono a ciclo cross e corrono sempre in queste condizioni. E poi trovare giustamente la traiettoria giusta di non cercare delle buche nel pavè dove magari incempare in una foratura. E dopo, certo, la fortuna perché in questa gara bisogna avere anche tanta fortuna. Certo, sì. Ma avevi chiesto un consiglio a qualche ciclista che aveva già corso, insomma, quella gara? Qualche tuo collega che aveva già esperienza in quella gara lì? Il mio compagno Henry Kausler che lui vive solo per questa gara qua, tutta la stagione solo sulla Roubaix. E ho chiesto consigli a lui anche come il tipo di ruota da usare, il tubeless da usare, anche il diametro della gomma appunto. E lui mi ha dato sicuramente un grande vantaggio e anche mi ha detto i punti chiave della Parigi Roubaix, dove ogni anno si svolge il pieno della gara. Hai chiesto qualcosa di particolare al meccanico per affrontare questa gara leggendaria? Ma diciamo che questa qua è il telaio, la bici dove io corro sempre tutto l'anno. Ho voluto cambiare appunto il manubrio perché prima montavo un manubrio aero, aerodinamico, molto più grosso. Ho voluto appunto un manubrio normale, tradizionale e diciamo che ho voluto anche avere, però si è visto col fango, si vede poco, tutti i settori di pavè con le stellette. Però in gara l'ho visto poco perché col fango si vede qua. Però diciamo un piccolo particolare è stato che ho voluto questa chiave qua, la chiusura dove apri la ruota, l'ho voluta mettere qua sotto perché avevo paura che con le oscillazioni col pavè la perdessi. Allora l'ho voluta mettere qua con lo scotch, infatti è rimasta lì. È rimasta lì. Bene, però non ti ha servito. Quella è stata la cosa più importante. E dopo ho voluto optare su dei tubeless molto più larghi per aderire meglio alle oscillazioni del pavè e diciamo che è andata a buon fine. Ho voluto anche un profilo alto di ruota che uso diciamo sempre. A me piace sempre usare questo profilo di ruota sia in salita. Anche per il pavè era. Anche per il pavè e dico così come mia prima esperienza diciamo che. Ti è andata benissimo. Non posso chiedere. Ma io sono curioso della pressione delle gomme. La pressione ti dico è ho provato e riprovato nei giorni prima appunto anche chiedendo ai miei compagni. E ho detto specialmente a Aino che lui è uno specialista su queste cose. Certo. E abbiamo optato su una pressione che non è tanti non è tanto alta. Frequenti in una bici da strada. Da strada. Davanti abbiamo optato con una pressione di tre atmosfere e mezzo. tre quattro e dietro è un poco più 3.8. Ok. Diciamo che dietro con il peso tutto quanto la pressione è un po' più alta. Un po' più alta. Certo. Il nastro anche qui c'è qualche. Il nastro. Hai richiesto qualcosa di particolare? Io uso sempre un doppio nastro però all'interno il meccanico mi ha messo tipo un gel. Per le vibrazioni allora ok. Infatti si vede che qua è molto più spesso più più grosso però appunto io uso sempre un doppio nastro. Ok. E dopo altri altri particolari come possiamo vedere dietro la cassetta non è delle dei rapporti. Sì. che ho scusato tutti i giorni. Quindi conoscevi già. Di non stravolgere le misure. Completamente. E' una cosa più di conforto. Certo. Ma durante il test diciamo della Roubaix ovviamente i giorni prima hai provato a pedalare sul pavé. appena hai messo le ruote sul primo settore. Diciamo che. Cosa hai provato? Certo. Ho detto ma già la ve la guardavo sempre in televisione. Me la son persa mai neanche una di Parigiubè. Io poi sono cresciuto con l'impresa di Tombono. Io guardavo lui. Ok certo. Che dire sono entrato nel primo settore che magari era quello un po' più semplice. Certo. E già lì ho detto caspita devo correre così. E poi diciamo sono entrato nella famosa foresta di Arenberg. Sì. Sai che è ormai famosa nella Parigi Roubaix. Sono entrato proprio con una voglia di andare o no? Di andare. Per me è che sono entrato perché poi tende a scendere e a metà inizia un po' a salire. All'inizio andavo fortissimo. Poi quando ho iniziato a prendere il primo pezzo che saliva mi sono proprio fermato in mezzo alla strada. Lì ho detto caspita chissà domenica. Poi sapendo che le condizioni erano diverse dei giorni prima che stavo provando. Sì 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 sì. Eh sì quindi non... Era una cosa... Era tutto da vedere. Era tutto da vedere. Già era dura così. E poi ho detto col bagnato e il fango nella strada. Si complica sicuramente. Si è complicato di più. Immagino che sia stato super scivoloso su queste pietre. Sì più che altro è stato sì mentalmente perché dovevi sempre stare fuori dai pericoli. Cercare di essere sempre davanti nei settori perché abbiamo visto tutti che si cadeva anche sul dritto a stare... E questo qua per me è stato il mio punto, la mia forza in questa Parigi Roubaix. Essere concentrato dal primo all'ultimo chilometro. Per affrontare la Parigi Roubaix ti sei allenato anche con altre bici tipo la mountain bike o la bici da ciclocross o sulla strada? Mi piace molto la mountain bike. Infatti in inverno, i mesi novembre, dicembre la pratico spesso. Quindi ti aiuta molto a imparare a guidare la bici, a mantenere insomma... Quello sì, quello sì. Certo. E dopo magari quando posso durante l'anno qualche giretto sempre con la mountain bike me lo faccio. Ma giusto per prendere il giusto occhio e confidenza. Un'altra domanda che già noi spettatori da casa ci emozioniamo quando lo vediamo. Quando sei entrato nel velodromo di Roubaix? Sono entrato... Per secondo se non sbaglio, vero? Per secondo sì. Tanti mi dicevano, però dopo non so se è vero o no, chi entrava per primo non aveva mai vinto la... Ah, quindi c'erano già le statistiche. Però guarda, me l'hanno detto, in due o tre me l'hanno detto, però non sono andato a vedere veramente. Ok, ok. Però sì, sono entrato nel velodromo. E' stata una grande emozione. Già per me, a dieci dall'arrivo, quando ho capito che ormai noi tre ci giocavamo questa Parigi Roubaix, ero contento. Ero contento se facevo terzo, secondo. Ho corso così senza un obiettivo nella testa. Sapevo che potevo... Senza troppa pressione. Allora, dai, certo. Nella testa ho detto come andava, andava. Certo. Però ho voluto appunto entrare per secondo perché sapevo che era una posizione giusta. e poi hanno visto tutti uno sprint da seduti. Infatti abbiamo fatto tutti tre lo sprint da seduti. Uno perché aveva appunto le gomme a bassa pressione e molleggiava un po' troppo sull'asfalto. E dopo perché eravamo tutti stanchi morti. Immagino, immagino. Eravamo. Infatti sei stato bravo che comunque hai trovato l'ultima energia per fare lo sprint, per battere gli altri. Davvero, quando è partito il corridore della lotto Vermesh, ho cercato di prendere subito la ruota. Ho visto che Van der Poel non sembrava così pimpanta, no? Certo. Così in grande condizione, aveva speso anche lui tanto tutto il giorno. E davvero l'ho superato penso a 25 neanche 30 metri dalla rio. E lì ho realizzato solo lì. Poi le immagini parlano da sola. E lì sì, la gioia. Questo urlo di liberazione dai. Certo. Che da una parte non mi sembrava vero. Non mi sembrava. Complimenti. Grazie. Sicuramente è stata una sofferenza durante la gara, durante la Paris-Geroubaix. che di solito la sofferenza ti passa subito, diciamo. Ma il male di gambe ti è durato per giorni o hai recuperato velocemente? Ho recuperato velocemente no, perché appunto a Palau-Roubaix ho fatto la mia ultima gara della stagione correndo il Piemonte. Ok. Ed ero lì fino all'ultimo, ai 200 metri perché ci stavano giocando la corsa. quando mi sono alzato sui pedali per provare a sprintare le gambe fanno sonni sediti perché erano ancora... Provate. Infatti tutti quanti mi hanno sempre detto che chi corre la Roubaix ci vuole minimo dei 10 ai 12 giorni anche più per recuperare tutti gli sforzi, i muscoli che si mettono a posto. diciamo che le braccia nulla, solo magari un po' di donanzimento, niente di che. Però le gambe dopo due settimane a volte sento ancora i cortelli e i muscoli. Sento. Ma quest'anno poi è stato un evento particolare perché il sabato le donne hanno corso la prima Parigi Roubaix. Sì. E' stata veramente una data storica per loro. Tante volte. Hai guardato la gara? Sì perché diciamo sempre quando siamo, queste cose qua l'ho fatto quando siamo sempre in mondiali, i giorni prima guardi sempre le gare delle donne o magari degli under perché bene o male vedi come si svolge la corsa. Ho voluto guardarla, ho guardato gli ultimi 70 chilometri per vedere come erano le condizioni sui settori di Pavè e poi anche guardando la prima edizione delle donne. Non è una cosa semplice per una ragazza correre su questo tracciato. Sì. E l'ho vista di tutti i colori, cadevano proprio così, stando da ferma andando normale. E lì ho detto caspita e ci guardavamo con mio compagno di stanza Maurici. Già tra quattro volte ci guardavamo e domani cosa cosa gli raccontiamo? Cosa facciamo? Però è stato molto importante per vedere dei punti da dove non passare o dove dove passare. Poi certo loro diciamo corso con delle condizioni non proprio come le nostre però diciamo che era sempre bagnato e col fango i settori di Pavè. Sì quindi è stata per loro una vittoria comunque dopo. Chi ha vinto la Paris Joubaix delle donne ha fatto veramente un traguardo incredibile. Quello sicuro. Già anche finire una Paris Joubaix a mio punto di vista non è da tutti e bisogna fargli complimenti sia alle donne che anche a noi uomini finire in queste condizioni una Paris Joubaix. Però per le donne davvero è stato molto molto bello da vedere e così vuol dire anche che il ciclismo femminile sta sempre prendendo più più piede e così fa solo che bene al ciclismo. Certo ma a breve a breve tra qualche mese tornerai di nuovo su quel Pavè ci sarà di nuovo la Paris Joubaix ad aprile e poi anche il Tour de France. Sì infatti non ci facciamo mancare nulla. L'abbiamo infatti quest'anno è stata ottobre e aprile ci si sicurerà già. Vicinissima. Perciò cercherò di farmi trovare pronto come è stata ad ottobre. E appunto sì ho visto che quest'anno il Tour de France ha rimesso dei settori importanti di Pavè. Perciò vuol dire che è un'altra sfida importante. Adesso sai cosa ti aspetta. Sai cosa ti aspetta. Sì. Bene. Quest'anno hai vinto sia la maglia di campione europeo ma anche la maglia di campione italiano. Purtroppo devi indossare quella. Sì. Quindi questa. Come da te purtroppo. Ti dispiace. Avevo diciamo per un italiano indossare la maglia di campione italiano poi diciamo così come l'ho voluta fortemente con la squadra. C'è stato un po' di conflitto perché l'avevo proprio come me l'avevano consegnata. Certo. L'ho ottenuta dai pochi mesi però dai sono riuscito a vincere con questa maglia non al Tour de France e adesso devo indossare questa maglia campione europeo. anche questa è una bella maglia però come quei colori preferivo più quella. Portare in giro i colori della bandiera italiana. Italiana certo. però Merida ti ha customizzato due bici cioè i colori di campione europeo e anche i colori con la bandiera italiana quindi puoi scegliere eventualmente la bici. Quello sì mi ha fatto due bellissime biciclette però magari un giorno uso quella campione europeo e un giorno uso quella campione italiano. Le alterni. Le alterni. Sì. 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 Sì.